Grazie Giovanni. Io volevo fare una premessa innanzitutto, che è anche poi una scusa nei confronti dei colleghi specialisti. Pensavo a una platea di provenienza composita e quindi ho fatto la scelta di fare una chiacchierata divulgativa. È una chiacchierata divulgativa, è necessariamente superficiale ed è necessariamente incompleta. Per cui spero che i colleghi competenti mi perdonino, ma spero in questa maniera di rendere le cose un pochino più appealing alle persone che non sono nel campo. E quindi comincerei con un omaggio al convegno che c'è stato qua ieri pomeriggio, che era sul restauro della Fresco di Sironi alla Sapienza, nell'Aula Magna, dove vengono rappresentate tutte le arti e le scienze del momento e dove viene rappresentata anche la mineralogia, come era vista prima della scoperta dei raggi X, o prima della scoperta della diffrazione. È l'aspetto della mineralogia di cui ha parlato Giovanni Ferraris prima, cioè quello che si basa sull'osservazione dei cristalli, sul paragone delle forme dei cristalli e che comunque ha portato alla nascita del concetto di isomorfismo. Quindi non era uno stato solo qualitativo, ma era stato uno stato importante. Certo che dopo l'avvento dei raggi X la situazione cambia perché non è più importante la forma, è importante quello che succede all'interno del minerale, cioè quelle che sono le proprietà di Balk. E questo è un pezzo del discorso che William Lawrence Bragg ha pronunciato per il suo premio Nobel, che gli è stato dato nel 15, mi pare, ma poi è stato ritardato per la guerra, quindi il discorso del 22, in cui lui ha già potuto dire qualcosa di più di quello che avrebbe detto al momento della scoperta. Ma la cosa importante è che lo studio della struttura cristallina con l'aiuto dei raggi X ci ha dato per la prima volta la possibilità di vedere nella vera disposizione degli atomi nei solidi cristallini. Quindi per la prima volta abbiamo potuto conoscerlo e abbiamo potuto sapere quanto gli atomi stanno lontani tra di loro, come si raggruppano. E l'importanza di questa osservazione consiste proprio nella luce che porta sulla composizione chimica dei solidi che noi stiamo studiando. Cosa che è particolarmente vera per i minerali, perché tutti i solidi hanno una composizione cristallina che è importante conoscere, ma come forse avete visto prima, le molecole organiche, ma anche le molecole inorganiche, non hanno delle variazioni composizionali, cioè non c'è la possibilità di sostituire in un dato sito strutturale un altro catione. Questa è la caratteristica delle leghe, certo, come ci ha raccordato Livio Battezzati, ma soprattutto dei solidi che studiamo in mineralogia, cioè dei minerali. E qui non è tanto importante sapere quanto di ogni atomo, di ogni specie atomica c'è in un singolo sito, all'interno di una singola composizione, ma è importante anche sapere com'è la distribuzione, cioè la visione media e la visione di cui vi parlerà dopo Giancarlo dell'Aventura, la visione locale. Perché il raggruppamento degli atomi ha un grosso effetto sulle proprietà delle strutture dei minerali e quindi da una parte ha delle grosse implicazioni di tipo geofisico, dall'altro è un diario, un'incredibile miniera di informazioni su quello che i minerali hanno sopportato, cioè delle condizioni in cui si sono formati, si sono evoluti e si sono cristallizzati per la volta definitiva. Quindi i minerali sono oramai degli informational objects, come si chiamano adesso, cioè dei forti contenuti di informazione geologica. Due concetti da riprendere che avete già sentito, peraltro, sulle soluzioni e le miscele solide. Quando in una struttura cristallina, in questo caso in un minerale, un sito atomico specifico viene occupato in proporzioni variabili da due o più elementi chimici differenti, abbiamo una soluzione solida se parliamo di tracce, cioè i nostri colleghi geochimici teorici insistono su questo punto, possiamo parlare di soluzione solo se abbiamo una dispersione di tracce, parliamo di una miscela solida se i sostituenti sono a livello di elementi maggiori, perché la teoria per modellizzare queste cose è diversa. Allora abbiamo visto che la forma cristallina dei minerali dipende dal modo di combinarsi degli atomi o degli ioni e dal loro numero, ma non dalla loro natura chimica, e quindi la sostituzione di un atomo-ione con uno diverso non si riflette sulla morfologia esterna. Questo è un concetto che ha già richiamato Giovanni Ferraris in precedenza. Le sostanze che cristallizzano nella stessa classe, dello stesso sistema, presentano costanti cristallografiche molto simili, una formula cristallo-chimica abbastanza simile e sono in grado di fornire miscele solide, sono dette sostanze isomorfe. Quindi quando parliamo di isomorfismo dobbiamo tenere presente queste condizioni. I minerali sono il classico esempio di sostanze isomorfe, perché nei loro siti, come vedremo, possono sostituirsi diversi specie ioniche. I minerali, partendo dai più semplici, o meglio dai più vincolati, come le strutture cubiche a corpo centrato, di cui avete visto già molti esempi prima, quando Zecchina parlava degli ossidi, io qui avevo messo i più semplici di tutti, l'NACL, il cloruro di sodio, che è quello poi che aveva studiato Bragg come prima sostanza, la Blenda, che era la sua seconda terreno di lavoro, e tanti altri, appunto tutti gli ossidi, l'ossido di maniesio, di nickel, di cobalto. Hanno strutture semplici, che avete già visto, ma quello che mi interessa sottolineare hanno lo stesso tipo di coordinazione, cioè esistono lo stesso tipo di poliedri, in questo caso ottaedri, centrati sul catione o sull'agnone. Poi ci sono diverse varianti, sempre cubiche, ma diciamo con una simmetria più rilasciata, come ad esempio gli spinelli, che sono minerali importantissimi, anche questo è per lo studio della geologia, in cui in una struttura molto simile abbiamo due tipi diversi di poliedri, un ottaedro e un tetraedro, e quindi qui si può giocare, tra virgolette, molto di più dal punto di vista chimico. Abbiamo i granati, vi presento alcuni tipi di minerali di cui poi parlerò nel seguito della presentazione. Granati, se volete vederli anche così, sono gemme, sono bellissimi, e anche più di quelli dei cristalli naturali. I granati, sempre cubici, hanno una maggiore diversità di siti possibili, perché al tetraedro e all'ottaedro affiancano un sito dodecaedrico che contiene cationi grossi. Quindi gli end member più comuni, più utili per lo studio della geologia dei granati sono piropo, grosulari e andredite, che piropo e grosulari condividono la stessa composizione di tetraedri e ottaedri, ma cambia la sostituzione magnesio-calcio. Nell'andredite rimane il calcio, ma abbiamo una sostituzione nell'ottaedro che si allarga per l'entrata di ferro trivalente. Fino ad arrivare ai minerali più complicati, come gli anfiboli, anche loro molto belli, anche loro molto frequenti nelle rocce, e sono importanti proprio per questo, perché sono dei marker importanti dei processi geologici, come ci racconterà magari Roberto Compagnoni domani. Hanno una struttura molto complessa, in cui ci sono diversi tipi strutturali, che non vi sto ad elencare, ma quello che mi interessa che notiate, sono diversi tipi di poliedri di coordinazione e diversi tipi di posizioni splittate, qui si dice, all'interno di uno stesso sito. Come in questo caso, non so se si vede, no, non si, si vede anche qua. Nella cavità A ci sono quattro posizioni possibili, indipendenti tra di loro. Sono complicati per struttura, ma anche per costituenti, perché ha una formula già complessa, si affianca una complessità di sostituzioni notevoli, che potete vedere senza che ve la racconti nei dettagli, ma la cosa importante è che si possono sostituire ioni con cariche anche molto diverse, da 0 a 2, da 2 a 4, da meno 1 a meno 2, nei diversi siti strutturali. Quindi questo porta a una complessità del sistema incredibilmente difficile da decifrare con tecniche sia chimiche che cristallochimiche. Una volta che noi abbiamo una miscela solida, che abbiamo definito, come detto, dobbiamo dire anche che le miscele solide possono o no essere complete. I fattori principali, diciamo i punti fermi di questo discorso, quelli che determinano se la miscela solida può essere completa o no, sono essenzialmente la dimensione degli ioni coinvolti, e tutto si richiama alla prima regola di Pauling, con una regoletta pratica che dice che se la differenza di raggio ionico è inferiore al 15%, il rapporto tra gli ioni vecarianti può essere qualunque valore, quindi la soluzione solida è completa, altrimenti si hanno alcune dimiscibilità. Il secondo milestone è quella delle cariche degli ioni coinvolti, qui ci richiamiamo alla seconda regola di Pauling, e quindi se la carica degli ioni vicarianti è la stessa, la struttura ovviamente rimane elettricamente neutra, se invece la sostituzione è eterovalente, ha bisogno di una sostituzione eterovalente complementare in un sito adiacente, in modo che l'elettroneutralità locale venga mantenuta in ogni punto della struttura. E questi sono i due criteri che vanno sempre rispettati quando si parla di soluzioni solide. L'altro fattore che è importante ovviamente sono la temperatura e la pressione del sistema, perché queste proprietà di miscela sono diverse seconda della temperatura. Una temperatura più alta allarga i campi di miscibilità, una temperatura più bassa li riduce e questo ad esempio è alla base delle soluzioni, dei dettagli petrografici di cui parlerà Roberto Compagnoni domani. Facendo un esempio, un altro esempio, guardiamo le tormaline che sono un altro minerale record del processo geologico, anche questi molto complessi sia per numero di siti sia per composizione chimica e anche loro contengono delle importanti condizioni sulle condizioni di formazione che solo adesso stiamo imparando a svelare. Le tormaline sono interessanti perché hanno una struttura molto particolare con un framework tridimensionale di ottaedri che circondano isole costituite da poliedri a coordinazione più alta, da altri ottaedri, da triangoli BO3 e da tetraedri che a loro volta formano degli anelli E6. Tutta questa complessa costruzione implica dei compressi limiti strutturali. Cioè c'è un fortissimo controllo a long range per l'ordine e disordine dei cationi che è un controllo prima di tutto dimensionale. Se noi vediamo, come ha fatto Bosi in un recente lavoro di review, controllando la possibilità della sostituzione tra alluminio e cationi bivalenti nel siti Z e nel siti Y, il controllo è molto forte. L'alluminio entra prima in Z e poi in Y più Z. E alla stessa maniera ci sono dei forti limiti di limiti nella stabilità della struttura. Ecco l'altra cosa che non avevo detto, c'è anche un forte limite dimensionale per l'entrata di bivalenti nel sito Z. Tutti questi forti limiti dimensionali portano a dei campi di instabilità della struttura che sono molto grossi. Cioè in realtà la stabilità della struttura della tormalina non è molto grossa, non è molto grande, però nonostante questo la tormalina non ha grossissima variabilità composizionale. E se le soluzioni solide sono complete, sono ideali o non lo sono? E anche questa è materia di lavoro poi per i termodinamici e per le dovesi e d'arcodomani. Io non voglio entrare nei dettagli di questa cosa qua, però voglio soltanto farvi vedere come ci sono, ad esempio, nella soluzione piropogrossularia di cui ho parlato prima, ci sono delle forti non idealità che si vedono a livello long range delle proprietà di eccesso dei volumi molto elevate. L'altra cosa che volevo farvi notare da questo lavoro è che questo volume in eccesso e soprattutto l'energia libera che ne consegue variano moltissimo in funzione della temperatura di cristallizzazione. E questa è un'altra cosa molto importante. Rimanendo nei granati facendo qualche veloce considerazione possiamo dire se noi guardiamo dal punto di vista long range cioè guardiamo la struttura di tante composizioni all'interno di una soluzione solida in questo caso piropogrossularia facendo la struttura di tutti i termini a 10% di variazione vediamo che ci sono dei comportamenti non lineari nelle variazioni strutturali. Tutto sommato uno potrebbe dire il sito X non è tanto non ideale però se uno va a vedere le due distanze indipendenti del sito X vede che una ha un grosso eccesso l'altra ha un grosso difetto. La media più o meno sembra ideale ma non è ma se noi andiamo a vedere la differenza tra la distanza lunga e la distanza corta vediamo che ha delle fortissime non idealità e questa è un'informazione che viene fuori long range cioè è il volume di cella. Se guardo gli altri siti il sito Y non mi sembra assolutamente ideale ma se io guardo la octaedra angular variance cioè la varianza argolare di questo octaedro vedo che è assolutamente non ideale quindi qui c'è un problema grosso che si vede anche da informazioni long range cioè immediate sul cristallo. Il sito Y in cui non succede niente come vi ho detto prima nella soluzione piropogrosularia dipende però molto dalle dimensioni del sito X quello giallo perché ne condivide molti spigoli. Quindi noi abbiamo un problema long range che possiamo vedere con raffinamento strutturale vediamo dei trend fortemente non lineari vediamo un'importante distorsione di due poliedri e quindi possiamo dedurre che la sostituzione magnesio-calcio provoca un forte strain. Adesso abbiamo tutto da capire perché. La soluzione la dobbiamo vedere a un'altra scala o con i calcoli termodinamici e lo vedremo un'altra volta oppure con delle indagini strutturali short range cioè spettroscopiche. In questo caso andando a fare l'analisi dell'intorno strutturale dei singoli cationi abbiamo visto che gli intorni locali sono diversi per il calcio e per il magnesio a seconda della composizione media del cristallo cioè il calcio non ha la stessa coordinazione nel piropo che nella grossularia e questa è anche una cosa importante quindi non è vero che è una banale sostituzione di ioni con dimensioni diverse in realtà le coordinazioni cambiano e di molto e questo fa cambiare le proprietà termodinamiche. Per alleggerire non sembra ma anche la forma di picchi di diffrazione è importante nel senso che dà delle indicazioni su quello che succede. Alcuni ricercatori che hanno lavorato recentemente hanno pubblicato una nuova analisi del microstrain sempre nella soluzione solida piropo-grossularia hanno visto il volume di eccesso misurato dalle costanti di cella però hanno anche guardato l'allargamento dei picchi dunque la soluzione solida e hanno visto che c'è una percentuale di microstrain che varia tantissimo per l'entrata di calcio nel piropo che è qua e di magnesio nella grossularia. Quindi sono due sostituzioni completamente diverse assolutamente indipendenti e il loro ragionamento è noi tempo fa avevamo dimostrato come vi ho detto che l'intorno i locali di calcio e magnesio sono molto diverse nelle due composizioni quindi l'entrata di calcio in strutture con magnesio dominante ha un impatto minore sul volume di cella di quello atteso e minore di quella del magnesio in composizione a calcio dominante perché l'entrata di un catione molto più piccolo provoca una specie di collasso locale che è molto più importante di una deformazione di tensione e c'è quindi una tendenza ad evitare le coppie calcio-calcio e quindi c'è una soluzione solida che va attraverso procedure particolari e questo va bene senza entrare nei dettagli è in accordo con i modelli termodinamici che erano state fatte primi con dei volumi di eccesso che erano negativi dal lato dell'end member più piccolo e in ogni caso le alte temperature favoriscono l'aumento del volume di eccesso e aumentano il microstrain tornando a cose più divulgative diciamo più facili da capire volevo fare una rapida carrellata di come possiamo ottenere informazioni chimiche dai dati di diffrazione raggi X ovvero dalle informazioni long range ad esempio esaminando le distanze io qui userò gli anfiboli che sono il mio cavallo di battaglia per mostrarvi alcune cosette ad esempio esaminando le distanze possiamo identificare e stimare ad esempio la componente oxo negli anfiboli che è una delle cose più difficili da stimare perché la componente oxo vuol dire la mancanza di idrogeno e identificare l'idrogeno e dosarlo è una delle cose più difficili da fare nelle scienze della Terra perché l'idrogeno è un elemento leggero è difficile da analizzare è difficile da quantificare lo possiamo però fare da informazioni long range perché il fatto che l'idrogeno se ne vada e che in contemporanea si ossidi un ferro da ferro 2 a ferro 3 provoca dei sconvolgimenti strutturali che noi vediamo se noi usiamo un database di strutture abbiamo una elongazione di una determinata distanza che ci permette di identificare il contenuto di idrogeno quindi questo è un piccolo miracolo che però è possibile se abbiamo un database omogeneo e tanto per raggiungere un aneddoto così divertente quando all'inizio facevo questi lavori ho fatto un po' di cluster analisi di tutti i dati che erano disponibili in letteratura e non mi era venuto fuori qualcosa che avesse a che fare come io speravo con le condizioni petrogenetiche in cui si era formato questo minerale ma aveva semplicemente da fare col laboratorio che aveva prodotto questi dati cioè l'errore sistematico dei dati perlomeno a quei tempi adesso le cose sono più standardizzate quindi vanno meglio era superiore alle differenze che io dovevo guardare per ottenere un modello che mi permettesse di dosare la chimica quindi è importantissimo lavorare su un buon database però una volta che io ce l'ho posso anche comprendere quali sono i meccanismi cristallo chimici perché se io medio normalizzo le distanze di un dato ottaedro dove succede l'ossidazione del ferro dagli andamenti stessi posso vedere che cosa succede e quando cioè ad esempio qui posso vedere che il ferro si ossida in questo sito che è l'M3 un chetotaedrico M3 soltanto dopo che siamo arrivati a un atomo per formula unitaria di detrogenazione prima non succede niente quindi non solo so che cosa succede ma so anche quando succede poi posso scegliere anche tra i possibili vettori di scambio che sono due uno sono l'ossidazione del ferro e l'altro l'entrata di titanio perché se io ho l'ossidazione del ferro ho una grossa distorsione nell'ottaedro in cui questo succede come vedo qua c'è un aumento di un forte aumento di distorsione se invece io ho l'entrata del titanio il problema è completamente diverso devo esaminare i valori degli ADP cioè dei fattori di atomic displacement parameter e vedo che la presenza di titanio fa salire il fattore di displacement del DM1 che è il sito dove il titanio entra a bilanciare la detrogenazione perché c'è un forte disordine posizionale quindi io misurando questo parametro posso scegliere se è stato il titanio o se è stato il ferro a governare la detrogenazione in ogni caso vedo che l'ossidazione del ferro e l'incorporazione del titanio vengono soprattutto in M1 e questa è un'altra informazione importante ma posso anche identificare e stimare l'ordinamento di un particolare catione perché se io paragono le distanze dei due siti ottaedrici in cui ad esempio l'alluminio può entrare negli anfiboli vedo che sono ben lontana da un andamento 1 a 1 lineare che c'è un andamento preferenziale e questo andamento preferenziale dipende dalla composizione ma dipende anche dalla temperatura più aumenta la temperatura più l'alluminio si disordina tra M2 ed M3 e questa è un'altra informazione petrologica importante se io trovo l'alluminio disordinato so che quell'anfibolo si è formato ad alta temperatura oppure posso esaminare le mappe di densità elettronica se io faccio una mappa di densità elettronica perdonatemi non vi posso spiegare tutti i dettagli di come si fanno queste cose ma insomma se io fotografo com'è la densità elettronica all'interno di questo minerale all'interno di questo sito trovo delle distribuzioni diverse se la trovo di questo tipo vedo che sono in una situazione come questa e so che c'è il potassio che entra preferenzialmente qua oppure che nel sito 3 c'è del fluoro che attira il catione verso questa posizione se invece vedo una situazione di questo tipo qua so che sta succedendo una cosa per gli amfiboli stranissima cioè che ci va un catione divalente che è il calcio e questo succede solo in particolari situazioni quindi il messaggio è l'analisi della densità elettronica può dare informazioni chimiche sul tipo e sulla distribuzione dei cationi oppure posso esaminare i valori del numero medio di elettroni raffinati in un sito e ad accorcermi sempre che in questo sito taedrico M3 è entrato un catione leggero che in questo caso è il litio il litio è molto leggero in paragone a tre elettroni paragonati ai 12 del magnesio e ai 26 del ferro se mi entra del litio lo vedo benissimo perché siamo assolutamente al di fuori della lunetta di possibilità della struttura dell'anfibolo e quindi io per differenza da questa retta stimo quantitativamente il litio altra cosa molto difficile da fare in termini analitici di chimica analitica che però si può fare con raffinamento strutturale quindi dai dati in long range possiamo dedurre qual è il contenuto non determinato sostituente come esso è distribuito nei siti che sono compatibili sempre con una visione immediata sull'intero cristallo per gli intorni locali e per i cluster dobbiamo passare a un'altra tecnica dobbiamo passare alle spettroscopie e alla visione short range due parole soltanto e poi vi lascio per la fisiologia dei minerali cioè noi finora abbiamo parlato di anatomia anche se è una fisiologia bloccata a una data temperatura però posso anche seguire un processo che avviene quando scaldo un minerale se un minerale viene sottoposto a condizioni di alta temperatura la pressione non è che possa cambiare l'ordinamento cationico se non c'è la temperatura quindi mi serve la temperatura cioè cosa faccio metto un fornetto sul diffrattometro a raggi X e prendo i dati di diffrazione in temperatura cosa vedo innanzitutto vedo che la capacità di visione delle tecniche long range in situ viene limitata molto dall'aumento del moto termico ad alta temperatura però io posso correggere i dati ad esempio per la ride in motion cioè per la mutua vibrazione di due atomi che sono collegati con un legame e quindi possiamo apprezzare oltre ovviamente all'espansione termica della cella posso apprezzare le distorsioni dei siti gli allungamenti delle catene quindi gli strain interni posso apprezzare le variazioni dell'ordinamento cationico e di conseguenza la perda di idrogeno se è compatibile con la composizione tutti effetti che possono essere confermati con dati di migliore qualità che poi io posso ottenere a temperatura ambiente dopo aver fatto un quenching naturalmente prima del collasso strutturale dopo non posso più dire nulla vi faccio velocemente un esempio un esempio della migrazione di ioni ferro da M4 e M1 che si osserva normalmente negli anfiboli M4 un sito a coordinazione 8 M1 un sito taedrico coordinazione 6 dove come vi ho raccontato prima avviene l'ossidazione del ferro per bilanciare la di idrogenazione vedo nettamente che c'è un aumento di elettroni e quindi un aumento di ferro in M1 e c'è una forte diminuzione di elettroni e quindi una diminuzione del ferro in M4 quindi so che c'è un ordinamento cationico c'è un flusso di cationi e ovviamente poi vedo anche la successiva ossidazione per bilanciare la perdita di idrogeno come la vedo? La vedo perché c'è un crollo delle distanze per un certo periodo osservo un'espansione della distanza poi quando c'è la perdita di idrogeno ho un crollo e in questo caso particolare che è una composizione di anfibolo particolare vedo che l'M1 cambia tantissimo è quello verde quindi prima scaldo poi c'è la perdita di idrogeno e poi scendo a temperatura ambiente quindi l'M1 crolla tantissimo c'è l'ossidazione l'M2 crolla anche lui perché in questa particolare composizione l'ossidazione avviene anche nel secondo sito in cui vi avevo detto avviene nel secondo stadio non nel primo stadio e vedo anche un'altra cosa però che non immaginavo l'M2 che è il sito inerte tra virgolette cioè dove non succede niente cambia il suo volume in particolare si dilata perché perché gli altri due si sono ristretti se vogliamo mantenere la struttura stabile cioè gli altri elementi strutturali sono costanti questi si sono ristretti un sito si deve allargare quindi anche i siti inerti come avevamo visto prima inerti dal punto di vista della reazione chimica come avevamo visto prima nel piropo in realtà partecipano a tutti questi processi e vediamo anche cose molto più sottili e sofisticate ad esempio l'ordinamento locale di ioni sodio se io prendo un particolare tipo di anfibolo che cristallizza nel sistema ortorombico quindi in cui le due catene di tetraedri non sono equivalenti vedo che a temperatura ambiente la mia situazione è questa cioè il sodio sta in questa posizione a metà tra le catene se io invece aumento la temperatura faccio avvenire il processo di edrogenazione e di ossidazione del ferro il processo di edrogenazione è tale per cui il sodio si sposta in un'altra posizione quindi praticamente c'è un ordinamento all'interno di questa cavità particolare che serve a diminuire cioè a far entrare una carica positiva vicino a dove se ne è andato l'idrogeno e quindi diventa molto corta questa distanza e quindi ho un ordinamento del tutto non previsto in quella posizione che mi dice in buona sostanza che ho una deprotonazione preferenziale in una delle due catene anche questa non è un'informazione ovvia ed è un'informazione che ha delle implicazioni abbastanza rilevanti per la termodinamica ora direi che ho finito è tempo di cambiare scala di passare Giancarlo Dell'Aventura che vi racconterà quello che succede localmente sui vari siti se avete delle domande se vi ho suscitato qualche curiosità sono qui per rispondere grazie abbiamo tempo per domande osservazioni posso si sente? si si e dunque quando lei ha parlato di densità di carica faceva riferimento a densità di carica determinata sperimentalmente o da simulazione? parlavo di densità elettronica si misurata sperimentalmente sperimentalmente cioè la distribuzione degli elettroni come le vedo durante il raffinamento strutturale quindi con i raggi X con i raggi X ecco secondo lei la precisione è sufficiente per determinare una funzione complessa come la densità elettronica? si si assolutamente si vedono delle delle feature che sono assolutamente chiarissime e che non dipendono dal modello perché il modello che mi sembra non dipendono dal modello perché queste le faccio senza mettere cationi dentro il sito cioè la densità residua cioè la differenza tra la densità spiegata dal resto della struttura e da quello che c'è dentro quel sito magari poi ne parliamo sì comunque io nel modello strutturale non metto dei cationi in quella posizione cioè vedo la densità la differenza della densità elettronica quella non spiegata ma mi sembrava che il modello che viene utilizzato per interpretare diciamo l'insieme degli spot e raggi X sia un modello che espande la densità di carica rispetto a dei centri atomici d'accordo e che quindi con un'espansione multipolare se dico bene e che quindi forse implicitamente contiene dei vincoli del modello che possono influenzare la densità di carica la simmetria volevo fare una seconda domanda se è possibile dunque quando lei parlava degli effetti a lungo raggio se ho capito bene ma forse non ho capito lei diceva che erano essenzialmente legati alla dimensione degli ioni sì prevalentemente e non tanto invece all'elettrostatica perché così uno pensa che diciamo la forza di gran lunga prevalente siano gli effetti colombiani che in un sistema tridimensionale si sommano molto fortemente e che quindi debbano giocare un ruolo prevalente ovviamente la carica è importantissima perché quello è uno dei vincoli primari che devono essere mantenuti però soprattutto nelle strutture complesse come facevo il caso delle tormaline il fitting dimensionale è decisamente la cosa principale prima ancora della carica che per carità deve essere mantenuta ma anche a parità di carica certe cose non succedono se non c'è una compatibilità tra i diversi modelli strutturali da diverse parti della struttura in un caso di soluzione è comparso una figura di energia libera di eccesso se ricordo bene abbastanza significativamente dipendente dalla temperatura come viene misurata in questo caso l'energia libera di eccesso da un lato questo mi sembra un calcolo dico bene questo è un calcolo sì sì sono proprietà di eccesso con un soluzionamento solito con un metodo elastico la variazione quindi è entropica viene spiegata la variazione di energia libera di eccesso che cala con la temperatura è un effetto entropico interpreto giusto è un effetto è un effetto entropico o legato anche a questioni entalpiche diciamo di interazione tra prima di tutto un effetto di volume che poi ha delle implicazioni di volume sì cioè la non idealità della soluzione che implica una non idealità del comportamento del volume di cella cioè come ho detto prima non è che c'è una sostituzione di un catione grosso a un catione piccolo neutra perché in realtà il catione grosso e il catione piccolo hanno degli intorni diversi a seconda di com'è il bulk cioè il piropo è una struttura in cui il calcio assume una determinata coordinazione che è diversa da quella che il calcio ha nel grosso lario di un catione